Voluto dall'amministrazione comunale per arginare i continui abbandoni di rifiuti, servirà solo i cittadini residenti nel comune dell'Aquila, qualora abbiano la necessità di smaltire i rifiuti di dimensioni maggiori. È stato inaugurato il centro raccolta di rifiuti del comune dell'Aquila, posizionato nella zona industriale di Bazzano e gestito dall'SM. Possono accedere al servizio anche le utenze non domestiche con apposita convenzione e con quantitativi specifici rifiuto per rifiuto. Gli Aquilanni potranno portare nel centro raccolta ingombranti, RAE, imballaggi di carta, cartone, vetro, plastica, legno, alluminio, ferro, sfaci e potature, batterie, accumulatore e quant'altro, il tutto contenuto in un elenco consultabile sul sito. L'apertura al pubblico è da lunedì 13 giugno, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì. Per il primo periodo di tre mesi si accederà al centro raccolta solo tramite prenotazione al numero verde ASM 800 20 88 20. Uno dei problemi dell'Aquila è proprio l'abbandono dei rifiuti, l'abbiamo evidenziato ultimamente e soprattutto credo anche a cagione della ricostruzione ci sono diversi casi di abbandono di rifiuto spesso ingombranti. Si spera che adesso il cittadino avendo la possibilità di venire a conferire direttamente qui invece di andare a abbandonare il rifiuto lo venga a conferire correttamente ai sensi di legge. Non solo va a sopperire i problemi ma speriamo che vada ad educare i cittadini, soprattutto quei cittadini che almeno in questo periodo stanno tempestando la nostra città di rifiuti e soprattutto di rifiuti ingombranti ma non solo cittadini privati ma anche ditte e quant'altro. Adesso questo centro di raccolta servirà per dare la possibilità ai cittadini di poter portare direttamente qui il materiale ovviamente non tutti insieme, ci saranno delle regole, ci sarà un numero verde che sarà contattabile prenotando lo spazio verrà conferito il materiale. L'amministrazione in questo senso sta facendo anche un altro tipo di intervento che è l'intervento attraverso l'ordinanza del sindaco di poter reprimere il fenomeno dell'abbandono di rifiuti quindi ci saranno delle multe salate per coloro che non approfitteranno di questa opportunità ma riterranno ancora di continuare a lasciare rifiuti ovunque ci saranno delle multe e ci sarà un preannuncio anche delle zone e delle aree video sorvegliate.